La casa di Leo diventa realtà. La casa di Leo sarà una struttura di accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati in ospedale, in modo particolare al Papa Giovanni XXIII. Vogliamo che le famiglie trovino serenità, stanno insieme, condividendo anche le fatiche quotidiane della malattia del figlio. Ormai ci siamo, abbiamo posato il primo albero, a luglio la platea di fondazione sarà istituita, sarà costruita. A settembre i pannelli verranno montati perché è una casa in legno e la produzione è già in essere. E a dicembre inauguriamo questo sogno che l'associazione Eosonlus ormai sta progettando da sette anni, perché il sogno è partito fin dall'inizio. Abbiamo bisogno però di voi, ci mancano un po' di soldi, è un progetto veramente importante, più di 800.000 euro, ce ne mancano 50.000. E quindi se qualcuno vuole, noi siamo qui, c'è la possibilità di acquistare dei lotti della casa per cui di sentirsi partecipi di questa casa, oppure per le aziende di offrire un supporto, un sostegno economico con la possibilità di detrarre o dedurre dalle tasse. Noi ci siamo, vi aspettiamo, se volete guardateci sulla casa di Leo.org, se no guardate la nostra pagina Facebook. Sarà una realtà grande, straordinaria, che ruoterà attorno a una parola, la serenità delle famiglie. Grazie, ciao!